buongiorno a tutti ragazzi io sono simone ravasi membro del team sp call oggi sono qui dopo le numerose richieste che abbiamo riscontrato da voi per come realizzare la chiamata di pastura il video sarà realizzato con i due richiami di germano femmina abbiamo lo standard e last call l'ultima chiamata presentata eos tutti i prodotti li trovate su www.spcall.it e se arriva date un'occhiata alle nostre pagine social su instagram spcall e la mia pagina simo.odor ora non perdiamoci troppo in chiacchiere e iniziamo l'allenamento come realizzare la nostra chiamata di pastura all'interno del richiamo la pastura va parlata cosa significa che quando andiamo utilizzare il nostro richiamo a fiato noi dobbiamo pronunciare delle parole all'interno del richiamo per poterla realizzare io vi ho preparato tre parole semplicissime molto famose per poterla realizzare che sarebbe il perché tre parole perché come quando spiego i corsi non tutti suoniamo alla stessa maniera quindi ognuno magari utilizza lo stile americano magari uno usa soltanto il il soffio soltanto il diaframma ci sono vari modi di suonare dopo ognuno si fa uno stile tutto suo e logicamente magari dopo tanto tempo che utilizza il richiamo scopre magari delle piccole cose che magari gli altri non escono a fare ora vi faccio sentire con il richiamo germano standard femmina e last call l'ultima chiamata che abbiamo presentato a eos partiamo con il che tec con il germano standard il tec e il tutto ora ve lo faccio sentire con la scola la scola ha una tonalità molto più delicata rispetto allo standard molto più fluido ricominciamo con il che tec gli esercizi per poter eseguire la nostra chiamata di pastura sono i seguenti prendiamo le nostre parole di riferimento le proviamo a ripetere tutte quante singolarmente e scegliete una parola che secondo voi è più semplice da pronunciare io prenderò come riferimento il che tec che è quello che utilizzo il primo esercizio è senza richiamo senza niente pronunciate la vostra parola che avete scelto che tec singolarmente una volta che tec che tec che tec che tec o raggiungiamo due battute che tec che tec che tec che tec tre battute che tec che tec che tec che tec così andiamo a a velocizzarla più andiamo a velocizzarla più noterete che andrà a sbavare è normale però l'importante è che andate a tenere la vostra parola di riferimento il secondo esercizio è prendere il vostro richiamo a fiato andare a suonarlo al contrario quindi andiamo a appoggiare le labbra dove fuoriesce il suono lo andiamo a appoggiare e pronunciamo la parola d'ordine che tec singolarmente che tec quando andiamo a pronunciare la parola di riferimento dentro il richiamo dobbiamo essere molto convincente non deve essere un che tec cioè non deve essere morbido il suo fio ma la pronuncia deve essere molto decisa quindi proviamo una battuta due battute tre battute e così andiamo a velocizzare l'ultimo esercizio è suonarla dentro il richiamo il segreto è non avere fretta quindi prendiamo il richiamo continuiamo con una battuta una volta che vediamo che abbiamo appreso la battuta singola aggiungeremo la seconda battuta e così vi andare tre battute quattro battute finché continueremo a farla seguente continua quindi una battuta che tec due battute tre battute e ora continuiamo a fare continua un'altra cosa che quando andate a fare la vostra pastura con il richiamo potete giocare con la vostra mano più la tenete aperta più la pastura sarà più aperta e più squillante più sarà chiusa logicamente non troppo chiusa perché sennò succede questo vedete che non suona deve essere lievemente aperta vedete che se apro la mano la pastura sarà molto più aperta più una volta avete preso appreso bene la pastura potete inserire qualche quack quindi sarà la seguente tipo così in questo modo perché aggiungere i quack all'interno della pastura crea sicurezza all'interno del gioco quando andiamo utilizzare la nostra chiamata di pastura la chiamata di pastura io la utilizzo tantissimo all'alba perché io caccio nel fiume po e magari nelle lanche o nelle zone morte di po si depositano i germani e stazionano lì per magari anche una mattinata intera e a me piace tanto cercare di attrarli nel mio gioco con la pastura infatti io faccio una pastura molto lenta come vi ho detto prima aggiungendo qualche quack per dare tranquillità al gioco così e vi garantisco che ho avuto ottimi risultati venendo proprio i germani che venivano a nuoto e si buttavano dentro gli stampi un'emozione 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 un altro segnale che ce lo danno proprio loro quando andare a fare questa chiamata che a 90 per cento delle volte riusciamo a ingannarli e farli venire a gioco Quando voi siete a caccia e sentite il famoso chiacchiericcio che fanno il kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke ad alimentarsi quindi se noi eseguiamo questa chiamata al 90% vi garantisco che i germani vengono a gioco riusciamo almeno ad attirare la loro tensione come vi ho spiegato non c'è bisogno di fare chissà che cosa nel senso non dobbiamo fare una pastura super veloce super potente tipo in questo modo la possiamo fare però alcune volte ai nostri amici germani non piace questo io quando sento questo di solito faccio una breve chiamata di benvenuto e poi mi aggancio con la pastura in questo modo in questo modo qui bene purtroppo siamo giunti alla conclusione riguarda questo mini corso sulla chiamata di pastura per qualsiasi dubbio domanda non esitate a contattarci vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre sintonizzati sul canale non perdervi nessun video vi invito a mettere like se il video vi è piaciuto e commentate qui sotto se in futuro vi piacerebbe avere altri contenuti riguardo al richiamo del germano reale vi ringrazio per la visione un saluto a tutti dal team sp call a presto ciao a tutti ciao